il santissimo rosario il salterio di gesù e maria opere complete del beato alano della rupe traduzione dal latino a cura di don roberto paola volume 5 libro quinto gli esempi esempi sulle donne capitoli da 1 a 14 conclusione esempi di donne devote esempio 1 il miracolo di caterina la bella romana prefazione il glorioso maestro giovanni del monte nel suo mariale ha raccontato un fatto che ho ritrovato anche nel libro di franto maso del tempio al tempo in cui san domenico illustre guida e padre dell'ordine dei predicatori predicava nel mondo essendosi la sua fama sparsa per tutti i regni della terra esortando incessantemente i popoli a lodare la purissima vergine maria e iscriversi all'angelica confraternia del rosario gli capitò di predicare a roma alla riunione maggiore dei preati provenienti da tutta la terra egli esortò fervitamente con allegorie ed esempi a salutare la gloriosa vergine nel suo rosario tutti rimasero stupiti per il discorso persuasivo e rimasero sbalorditi per la potenza dei miracoli e ad essi disse o devoti prelati e fedeli tutti che amate la fede ascoltate questo discorso singolare e vantaggioso per tutti voi e affinché sappiate che sono vere le cose che ho detto prendete il rosario della vergine maria e pregandolo meditate la passione di cristo devotamente vi dico che così farete esperienza dello spirito santo infatti in nessun luogo vi può essere una così alta fiamma senza calore né una così grande luce senza illuminazione né una così prodigiosa medicina senza guarigione e che avvenne dopo tutti ascoltarono e rimassero incantati e sbalorditi per il meraviglioso sermone e molti non solo del popolo ma anche dei grandi prelati della chiesa dei venerabili cardinali come anche moltissimi onorabili vescovi iniziarono a pregare il rosario che egli aveva predicato per poter ottenere qualche grazia di dio avvenne una cosa straordinaria molti cittadini di ogni ceto sociale sbalorditi per la predicazione di san domenico recitavano il rosario e si vedevano ovunque la mattina la sera e a mezzogiorno uomini e donne che portavano in mano il rosario e con grande riverenza le divine colonne del mondo i cardinali e i vescovi tenevano tra le mani e alle cinture i vessilli della nostra fede cattolica e dai miracoli che san domenico veniva a sapere non vi era alcun dubbio che quella divina preghiera per intercessione di maria era di aiuto a tutti che dirò ancora tutti coloro che sperimentarono il rosario ricevettero qualche attestato della divina misericordia tra tutti narrerò soltanto un prodigio narrazione vi era a roma una meretrice fra tutte la più attraente per bellezza eloquenza abbigliamento e gioie mondane la quale ebbe la grazia di ricevere dalle mani santissime di san domenico una corona del rosario e nascondendola sotto la tunica assiduamente a lungo il giorno lo pregava e ahimè nessuno la superava in stupro e in pudicizia era infatti ricercata dagli uomini assai più delle altre donne di tale vanità questa donna di nome caterina sovranominata bella era perseverante nel recitare il rosario per l'incomparabile bellezza della sua corona del rosario visitando almeno una volta al giorno la chiesa nella quale pregava il rosario lo meditava in questo modo recitava la prima cinquantina meditando sull'infanzia di cristo quando cristo accettava la futura passione con l'immaginazione il cuore e la mente recitava poi la seconda cinquantina meditando la passione di cristo nella sua reale sofferenza umana pregava infine la terza cinquantina meditando la passione di cristo come dio non perché come dio potesse soffrire ma perché cristo ama così tanto la nostra natura umana che se avesse avuto la possibilità di morire come dio certo sarebbe morto infinite volte come il signore gesù cristo a ste spesso ha rivelato perciò poiché la sapienza di dio è eterna e non ha in sé la possibilità di morire assunse l'umanità mediante la quale volle soffrire e morire per tutto il genere umano perseverando dunque caterina la bella nella preghiera del rosario le capitava spesso di andare a spasso per la città di roma ed ecco all'improvviso un uomo bellissimo e meraviglioso avvicinandosi le disse o caterina perché stai qui non hai una casa e la rispose sì che ce l'ho è tutta ordinata perfettamente e gli le disse voglio mangiare da te ed ella rispose con piacere e ti offrirò volentieri tutto ciò che desideri così camminando mano nella mano giunsero alla casa di lei dove erano tante giovani come lei fu preparato da mangiare e quest'ospite sconosciuto sedeva accanto a caterina la bella e bevevano ma qualunque cosa toccava l'ospite sia una bevanda o alcunché di simile subito diventava color sangue che profumava straordinariamente e acquistava un sapore suavissimo e la rimase sbalordita e gli disse signore sono diventata matta o tutte le cose che voi toccate diventano color sangue e lui disse non sai che il cristiano non deve bere né mangiare nulla prima di comunicarsi al corpo e sangue di cristo e la era assai incantata da quell'ospite e non osava sfiorarlo tuttavia gli disse signore vedo che avete un viso assai venerando chi siete gentilmente da dove venite ed egli le rispose quando saremo nella stanza da letto ti dirò quello che chiedi e così ammirata preparò la stanza anuziale ed entrando prima lei nel letto invitò l'ospite a entrare anche lui avvenne allora un evento mirabile che nessun uomo aveva mai udito all'improvviso quell'uomo prese l'aspetto di un bambino aveva sul capo una corona di spine la croce sulle spalle e le stimmate sulle mani e sui piedi e innumerevoli ferite per tutto il corpo e disse a caterina o caterina caterina ora poni fino alla tua soltezza ecco ora vedi la passione del cristo bambino che tu pregavi nella prima cinquantina poiché dal primo momento della mia concezione fino alla morte sempre ho portato nel mio cuore questa pena che ho avuto anche per te tanto che se tutti i granellini di sabbia del mare diventassero fanciulli e ognuno di loro provasse tanta pena più di tutti quanti gli uomini che sono in punto di morte neppure se questi granellini di sabbia diventati fanciulli li prendessi tutti insieme sarebbero in grado di sopportare le così grandi sofferenze che io ho sofferto per te ella era sbalordita per ciò che vedeva e udiva e all'improvviso egli nuovamente prese l'aspetto di un uomo che somigliava alle immagini del cristo al momento della passione e disse ecco vedi o figlia quante cose ho sofferto per te che superano le intere pene dell'inferno e questo perché la mia capacità di soffrire non fu umana ma divina fu così enorme la mia passione che se questa potesse essere divisa tra tutte le creature tutte le creature del mondo all'istante morirebbero e si corromperebbero dopo aver detto ciò subito risplendette come la luce del sole e nelle gloriose stimmate si vedevano sorprendentemente e splendidamente tutte le cose insieme e tutte le realtà apparivano in ciascuna stimmata in ogni stimmata si vedeva la sofferenza di tutto il mondo qualunque fosse la stimmata al costato alla mano eccetera e disse ecco vedi o figlia quante pene soffro ora nella divinità per te e per la tua salvezza e questo affinché tutte le cose siano in me e io in tutte le cose in ogni istante ti vedo ti amo e sarei pronto a soffrire ogni momento per la tua salvezza perché il mio amore infinito e chi vive in me ha la vita eterna riconosci dunque la bontà di dio e onora la triplice passione di cristo per la quale tu hai recitato le tre cinquantina del rosario e per l'avvenire emendati e come se è stato esempio di ogni scelleratezza e malizia così in avvenire la tua vita sia un modello di purezza e di limpidezza se sono apparso a te non l'ho fatto per i tuoi meriti ma per dare un modello di conversione e perché i tuoi confratelli della confraternita della mia purissima madre hanno pregato per te affinché mediante la tua conversione molti si convertano come prima mediante la tua sceleratezza innumerevoli persone erano rastrallate dal diavolo che cosa avviene dopo la visione disparve e non fu vana perché caterina sentiva il dolore della passione di cristo alle mani ai piedi e alle altre parti del corpo si alzò dunque decise di cambiare vita e il giorno dopo si andò a confessare da san domenico egli secondo il suo solito le diede per penitenza il rosario e di associarsi alla confraternita della gloriosa vergine maria alla quale ancora non si era iscritta pur avendone l'intenzione e il proposito si osservi quale grande valore alla confraternita dal momento che è riuscita a operare la conversione solo mediante un proposito mentre dunque ella salutava con grande devozione alla vergine maria apparve a lei la regina insieme a santa caterina martire dicendo ecco figlia molto tu hai peccato e devi fare tanta penitenza farai ogni giorno tre penitenze corporali e ognuna di esse avrà 50 colpi questo è rosario di penitenza ma non occorre che tu usi la verga ma con le unghie ti pizzichi ovvero piggi la tua carne quando e dove vorrai questa penitenza si può sempre fare per combattere le tentazioni e per ottenere ogni bene è la penitenza più alta segreta e facile ed è la regina di tutte le penitenze così ella compì ciò che aveva ascoltato e ogni giorno faceva quella penitenza un giorno san domenico durante una veglia notturna entrò in estasi per volere di dio e vide cose da far meravigliare il mondo intero vedeva infatti che a casa di caterina c'era il bambino gesù dalle cui stimmate sgorgavano 55 corsi d'acqua che discendevano fino al purgatorio e la cui acqua confortava e consolava le anime purganti o quante acclammazioni di lode elevavano o quante benedizioni davano a caterina risuonava la terra alle loro voci le anime del purgatorio dunque venivano liberate confortate consolate e sciolte dalle loro pene dal momento che caterina meditava la passione del bambino gesù e si impegnava con grande devozione per applicarla alle anime dei fedeli defunti quale stupore ebbe san domenico per il proseguio della visione e divide poi arrivare un uomo a casa di caterina e dal suo corpo vero dalle cinque piaghe scaturivano 55 fonti che nutrivano e irrigavano l'intera chiesa militante e il mondo presente ivi germinavano alberi arbusti uccelli e pesci pullulavano gli uomini si ristoravano a quella luce e a quelle acque o quanta dolcezza o quanta gioia vi era nel mondo ivi allora tutte le creature benedicevano caterina e il loro creatore e pregavano per lei questi due eventi strabilianti avvennero durante la prima e la seconda cinquantina tuttavia quando caterina iniziò la terza cinquantina del rosario di penitenza domenico vide arrivare un gigante di infinita grandezza più luminoso della luce del sole dal quale sgorgavano cinque sorgenti dalle quali si originavano 55 fiumi che non discendevano sulla terra né al purgatorio ma che in modo stupefacente salivano al cielo e irrigavano l'intero paradiso celeste ed era così grande la loro armonia che essi santi angeli attingevano infinite grazie ed offrivano al signore san domenico al vedere queste cose come narra tommaso del tempio era sbalordito e si domandava perché queste cose avvenivano a casa della peccatrice caterina si avvicinò a lui maria santissima e gli disse perché domenico ti meravigli di tali cose non sai che io sono amica dei peccatori e che nelle mie mani è posta la clemenza di dio ti ho voluto dunque mostrare questa figlia affinché tu predichi al mondo che i peccatori per quanto siano grandi i loro peccati non devono mai disperare ma sempre confidare nel signore e in particolare quelli che vogliono rifugiarsi sotto il mio manto come ha fatto caterina aggiunse la madre di dio maria hai visto domenico queste realtà veramente strabilianti ascolta e predica le cose vere e certe che ora ti dirò ossia che ho ottenuto dal mio figlio che tutti coloro che pregano il mio rosario e quelli che faranno parte della mia confraternita avranno il medesimo privilegio che ha ricevuto caterina anche se non lo vedranno quei loro occhi che importa neanche gli uomini vedono dio negli angeli nei demoni nei propri meriti nelle virtù se non riescono a vedere neppure gli effetti del magnete o delle stelle come potranno allora vedere qui la loro gloria la vedranno tuttavia dopo la morte rassicurati dunque o domenico e predica il mio rosario e la confraternita perché le cose che caterina ha ricevuto ho ottenuto per tutti e anche se non le vedranno tuttavia le riceveranno che cosa avvenne dopo san domenico rese immense grazie al signore per la divina misericordia caterina poi entrò in un monastero e distribui subito tutte le sue cose i poveri e la in seguito raggiunse una così alta santità che i maggiori santi si rivolsero a lei per avere delle ispirazioni a lei 15 giorni prima della sua morte apparve il signore gesù insieme alla vergine maria e santa caterina preannunciandole la morte e la poi morì molto santamente tre sante vergini una delle quali si chiamava giovanna la seconda marta e la terza lucia videro la sua anima uscire dal corpo più luminosa del sole e volare tra le braccia di gesù fu sepolta nella chiesa di san giovanni il laterano in base a questo fatto pensate tutti quanta forza è contenuta nel rosario della vergine maria se si recita devotamente meditando la passione di cristo lo diamo la vergine maria e il suo figlio nel rosario amen esempio 2 lo specchio della peccatrice benedetta di firenze nella città di firenze in toscana vi era una donna di nome benedetta di cui anche si parla nella vita di san domenico di nobile famiglia e di straordinaria bellezza sciupò gli anni della giovinessa bruciandoli in conversazioni pericolose fino a diventare una pubblica meretrice con grandissimo rischio per le anime quando la vide san domenico illustre sposo della beatissima vergine maria rimase affascinata della sua grande bellezza e allo stesso tempo si dispiacque grandemente della sua immoralità che stava portando alla perdizione non solo lei ma anche tante anime redente dal sangue di cristo per volere di dio tuttavia quella peccatrice dopo il sermone di domenico toccata dalle sue parole andò a confessarsi da lui terminata la confessione san domenico tra le altre cose le disse vuoi che io preghi per te il nostro signore gesù cristo e la dolcissima maria madre sua e mia sposa perché ti riportino a quello stato di vita che ti è più conveniente per la tua salvezza e la rispose sì padre dolcissimo ti chiedo umilmente e ti prego di farlo quando san domenico uscì dal confessionale subito pregò per lei e subito una moltitudine di demoni entrò nel corpo della donna e per un anno intero rimase posseduta indemoniata con grande stupore e orrore di tutto il popolo in particolare dei suoi amanti e di molti altri uomini carnali che avvenne poi dopo un anno san domenico ritornò e visitò la sua prigioniera allora ella piangendo e sospirando lo scongiurava grandemente di aver pietà di lei e di darle una mano per liberarla dai nemici del genere umano egli ha consentì volentieri e avendole fatto un segno di croce per intercessione potente della vergine maria del rosario mediante la quale compiva sempre grandi opere scacciò da lei tutti i demoni che erano 450 di numero e le diede come penitenza di recitare ogni giorno tre rosari della vergine maria ovvero 450 ave marie corrispondenti al numero dei demoni di prima una cosa triste ascolta ciò che avvenne dopo dopo che l'assai infelice peccatrice fu liberata da essi e abbandonata a se stessa iniziano di nuovo a divampare in lei i fuochi della carne a spuntare pensieri carnali e a ribollire nuovamente in lei i desideri dei piaceri della carne i precedenti amanti ritornarono da lei vedendo che era ritornata al precedente splendore bellezza corporea e la estigavano a peccare finché la misera dimenticando la misericordia di dio e la sua grazia ritornò alle precedenti azioni scellerate e cedette più smodatamente di prima ad ella correvano innumerevoli uomini e di nuovo era ritornata a essere ancora più di prima un penoso scenario degli spettacoli del diavolo san domenico avendo saputo della caduta di benedetta e la rovina di tantissimi uomini andò da lei mosso dallo spirito di dio giunto finalmente dove abitava la trovò in casa attorniata dalle consolazioni dei miseri amanti e allontanando tutti con la luce divina del suo sguardo rivolto ad esso con volto minaccioso disse è vero o no o figlia che avevi promesso a cristo e alla vergine maria di condurre una vita onesta tu sapevi che saresti stata punita da dio con maggior rigore se fossi ricaduta e questa punizione è arrivata ella sentendo ciò era scossa e taceva e sbigottita non arriva a parlare allora l'uomo di dio le disse seguimi e la condusse immediatamente così come era con indosso la veste di meretrice nella chiesa maggiore e la seguiva un'immensa folla di popolo e qui sedutosi in un confessionale ascoltò la confessione di quella poveretta mentre tutti la guardavano con immenso sconcerto ed egli invocò nuovamente il soccorso di dio terminata la confessione san domenico le disse vuoi o figlia che io ti affidi alla dolcissima madre di misericordia per la salvezza tua e degli altri la poverina tremante e confusa disse sì o signore sia fatto come tu desideri allora san domenico le cui preghiera erano sempre esaudite secondo i suoi desideri pregò un po' davanti a lei ed ecco davanti a tutti i presenti 450 demoni entrarono in lei come in precedenza e la tormentavano orribilmente imprigionata incatenata legata strillava e gridava terribilmente e tra lo sconcerto di coloro che assistevano venne portata a casa domenico poi all'improvviso disparve e si ritrovò in un attimo a parigi così dunque quella misera per un anno e più rimase ossessa e ogni giorno era terribilmente tormentata tuttavia aveva qualche momento al giorno di tregua e approfittava della calma per recitare con perseveranza i tre rosari della vergine maria e durante quei momenti i demoni non riuscivano a infastidirla o a impedirle la recita del rosario sebbene cercassero di ostacolare la poverina a servire la madre di dio con lo scricchiorio delle assi o con il bruscio di voci o strattonando le vesti e ucpelli mentre dunque la povera prigioniera della beata vergine maria e di san domenico era colpita da tante sofferenze accadde in una vigilia della vergine maria che ella in un'estasi fosse rapita in spirito san domenico per volere di dio all'improvviso si trovò di nuovo accanto a lei e pregava supplicovolmente dio per lei e si vide davanti al tribunale di dio ed era orribilmente trascinata in giudizio tra le infinite schiere dei santi con un'aureola splendente di luce venne portato un enorme libro grande quanto una stanza altissima che aveva i sigilli della maledizione e dell'inferno in esso era precisamente raffigurata l'intera vita di benedetta e lo stesso tempo era raccontata fu ordinato alla poverina di guardare attentamente alla raffigurazione del primo foglio e di leggere ciò che vi era scritto quanto era descritto la terrorizzava e angosciava a tal punto che avrebbe preferito attraversare una fornace ardente di 150 stati che guardare solo il primo foglio allora agitata e smarrita cominciò a urlare a voce alta dicendo ahimè ahimè me maledetta e non benedetta perché misera sono venuta al mondo perché sono così sfortunata in confronto agli altri figli e figlie di eva e sono colma di così tanti mali guai a me misera figlia della maledizione e ahimè guai ai genitori che mi hanno generato e non mi hanno insegnato ahimè guai molto più a coloro che per primi mi trassero in inganno ahimè ahimè dove mi volgerò dove andrò dove mi nasconderò dove fuggirò che dirò e cosa farò ahimè ahimè me misera vedo l'inferno aperto per afferrarmi vedo il giudice inflessibile che mi condannerà all'inferno ahimè perché non sono morta giovane perché non sono morta nella culla e invece ahimè dopo questa lunga vita malvagia sono giunta alla massima infellicità o se mi fossi resa conto di così grandi pericoli e li avessi evitati vivendo santamente o se il mondo e le donne del mondo venissero a conoscere ciò che io vedo cosa mai penserebbero che direbbero che farebbero guai a me figlia della perdizione e della dissolutezza dell'infamia e d'ogni sozzura abisso di orrenda vergogna e di ogni scelleratezza furono così fugaci i miei piaceri ed ecco ahimè ahimè a causa di essi vedo preparati davanti a me gli eterni tormenti e così urlando e gettandosi a terra davanti al sommo giudice era sconvolta da un immenso dolore il giudice adirato con voce autorevole le disse alzati mettiti in piedi fa ciò che ho detto e leggi nel tuo libro davanti a tutti le cose che hai fatto ed ella lesse la prima parola del primo foglio e si accorgeva che le lettere e gli apici prendevano ai suoi occhi le sembianze delle varie pene dell'inferno e le sarebbe stato assai più semplice più dolce più mite sostenere la morte del corpo che sopportare il dolore della più minuscola lettera di quel libro una cosa terribile volente o nolente la misera lesse la prima pagina del libro della morte tra strilli sospiri lamenti e tormenti tanto che venendole a mancare le forze stramazzò davanti al giudice da sembrare morta ma l'inflessibile e temibile giudice le disse a gran voce di leggere l'intero suo libro fino alla fine quando la poverina girò la pagina per leggere il secondo foglio urlò così fortemente per l'angoscia la paura il batticuore e il terrore delle pene che vi erano in quella pagina che anche le pietre e le altre cose inanimate se l'avessero ascoltata e capita avrebbero pianto insieme a lei allora coloro che stavano lì si inginocchiarono compassionevoli davanti al giudice chiedendo perdono per questa infelice poverina il giudice non volle esaudirli essendo stato offeso per lungo tempo assai gravemente da essa e dal momento che moltissime anime si erano perdute a causa sua per questa ragione doveva leggere per intero il libro che ella aveva scritto e dopo ella avrebbe ricevuto la giusta sentenza che meritava per le sue azioni allora uno dei presenti che a lei sembrava essere san domenico che ella vedeva assai distintamente più di se stessa rivoltosi alla misera disse presto grida a maria la madre di dio che tu hai servito nel rosario perché ella abbia misericordia di te allora piangendo estruggendosi fortemente rivolgendosi a maria madre di dio e la disse umilmente o signora madre dolcissima di misericordia e regina abbi pietà di me maledettissima peccatrice e guarda la mia prostrazione a causa dei miei peccati abbi pietà di me che mi trovo qua allora la nostra sovrana intercedette presso il giudice per lei e lo supplicò e lo convinse ad aver pazienza e a riconciliarsi rivolgendosi allora a lei con maggior benevolenza di prima il giudice le disse ecco figlia ora ti concedo un tempo di penitenza vada bene allora di combattere senza tregua mediante la penitenza tutti i peccati che scrivessi nel tuo libro della morte se invece farai il contrario ti condannerò alla dannazione eterna nel giorno che non ti aspetti così disse e la visione disparve ed ella ritornata in sé vide domenico che stava accanto a lei nella chiesa immediatamente si confessò con lui con grande accuratezza e gli domandò che cosa dovesse fare per cancellare quell'orrendo libro ed egli rispose o figlia raccomandati alla vergine maria ella infatti oggi è venuta in tuo soccorso e se la servirai ti soccorrerà in avvenire ora devo andare altrove ma quando sarò di ritorno ti manifesterò ciò che il signore vuole da te così per circa tre mesi ogni giorno con tutte le forze salutava l'amorevole maria nel suo rosario quando san domenico ritornò durante la celebrazione della santa messa ella fu rapita in spirito per circa tre ore e vide la dolcissima vergine che le disse o figlia o figlia molto spesso mi hai chiesto come si potesse cancellare il tuo libro infernale ed ecco io madre di misericordia sono venuta a insegnarti il segreto per poter cancellare interamente il libro della morte e subito l'amorevole maria porgendole un bellissimo giglio scritto a lettere auree lo diede a benedetta e le disse leggi o figlia e facendo questo cancellerai i tuoi peccati così vi era scritto sul giglio ricordati della gravità del peccato e della misericordia di dio per te ella ammutolì per la vergogna e nostra signora rivolgendosi a lei disse ti dico o figlia che è così grande la gravità del più piccolo peccato mortale tanto riprovevole a dio e a tutti i santi e tanto biasimevole alla corte celeste del paradiso che se io e tutti i santi che sono in cielo potessimo commettere un solo peccato mortale subito precipiteremo all'inferno e saremo dannati in eterno sai o figlia che lucifero e tante migliaia di demoni a causa di un solo peccato mortale furono all'istante spulsi dal cielo e si dannarono per l'eternità tu dunque o figlia hai superato tutti i costoro per numero di peccati e sei più immeritevole più miserevole più abietta di loro e così dissimile a noi hai forse ricevuto un'esigua misericordia e una grazia di poco conto questa immensa misericordia allora ti deve spingere a ricorrere alla misericordia di dio che ti ha dato il perdono e la grazia udendo ciò benedetta gemeva e piangeva di rotto per la potenza di questo giglio allora la vergine maria la benedetta fra le donne forse a benedetta un secondo giglio perché lo leggesse su di esso vi era scritto ricordati della morte innocente di cristo e imita le penitenze dei santi nostra signora le disse se dio padre ha tanta avversione per il peccato da non risparmiare il suo proprio figlio ma all'età di 33 anni lo espose alle ingiurie del mondo e nonostante fosse senza peccato alla fine lo fece condannare a una morte infame a causa del solo peccato di disubbidienza di adamo non dovrai allora ringraziare enormemente dio che non ti ha castigata e ti ha concesso altro tempo per pentirti mentre invece il figlio di dio dal primo istante del suo concepimento fino al momento della morte per te sempre in ogni istante visse nell'angoscia della morte tante volte quanto tu hai offeso dio con i peccati e poi non sai che coloro che sono più graditi a dio i profeti gli apostoli i martiri i confessori le vergine tutti i santi furono assai tribolati nel mondo e tu o misera hai commesso tanti peccati eppure per lungo tempo per misericordia sei stata risparmiata e non hai ricevuto alcun castigo queste parole erano penetrate nel cuore di benedetta come aguzze saette e le scorrevano sulle guance abbondanti rivoli di lacrime maria con infinita sapienza porse a benedetta il terzo giglio affinché lo leggesse e su di esso vi era scritto ricordati delle sofferenze causate dal peccato del primo uomo e dai peccati di tutti gli eletti maria spiegando ciò disse o figlia benedetta non dovrai forse dispiacerti molto della tua vita risparmiata per divina misericordia al vedere il primo uomo adamo cacciato dal paradiso con sua moglie eva e la condanna della morte trasmessa tutta la sua discendenza insieme all'assoggettamento alla fame alla sete al freddo al caldo e alle infinite calamità della terra fino alla fine del mondo cosa che è visibile a tutti ecco davanti a te vedi la spada del divino castigo per punire in ogni luogo e ogni ora il peccato da damo eppure tu hai commesso in tanti anni un gran numero di peccati ancor più ripugnanti e terrificanti e non sei stata castigata per essi ma sempre amorevolmente sopportata o figlia questo forse non ti sembrerà strabiliante d'immenso valore e ancora ricordi quando tutto il mondo perina il diluvio per il peccato di lussuria e non solo uomini ma anche tutti gli animali e le piante e soprattutto innumerevoli fanciulli innocenti e tu ricolma di infiniti peccati non vuoi convertirti a dio nonostante non sia stata castigata con alcuna pena e aggiunse guarda sodomo e gomorra e le città che confinavano con essa sulle quali piove fuoco dal cielo e morirono innumerevoli fanciulli innocenti insieme ai loro genitori e tu dimora di tutti i vizi e peccati sei rimasta sana e salva non morirono forse tutti i padri nel deserto e i santi mosè e aronne non morirono per aver solo mormorato contro il cielo e tu deplorevole meretrice piena di peccati così infami e che non si è stata ancora castigata per essi non ammetterai che il giudice così severo e rigoroso verso gli altri ti ha usato clemenza all'udire queste parole benedetta piangeva e si inghiozzava senza tregua che quasi moriva maria la madre di misericordia porse il quarto giglio alla sua figlia benedetta su di esso vi era scritto ricordati in che modo sei stata chiamata mentre tanti regni dei pagani dei giudei non sono stati attirati da cristo e attestando ciò maria santissima fonte della misericordia disse o figlia forse non hai ricevuto un'immensa grazia dal momento che cristo ti ha chiamato e in tanti anni ha attirato al suo vangelo non molti re dei pagani non molti condottieri non molti nobili non molti bei giovani e belle ragazze non molti potenti non molti ricchi dell'uno o dell'altro sesso mentre ha attirato la sua conoscenza te la più povera misera abietta meschina impudica e lasciva creatura medita su queste cose dunque e rifletti se ti sembri una grande grazia che coloro che sono figli del diavolo vanno insieme ai demoni in tutti i peccati e si incamminano per la via della morte scendendo verso l'inferno e tu o abietta col battesimo sei stata acquistata da dio sei stata unita agli angeli e sei stata posta sulla via della salvezza medita queste cose e riconosci dunque quanta grazia benevolenza e misericordia ti è stata concessa nonostante tu abbia offeso il tuo dio più di tutti i giudei e i pagani senza ogni paragone all'infinito oppure pensa quanti sono i giudei e i pagani che in questo momento digiunano portano di continuo il cilicio e si disciplinano aspramente mantengono il silenzio compiono opere di misericordia e nonostante ciò sono incamminati verso l'inferno e tu piena di miseria e di peccati pure senza aver fatto alcuna penitenza né alcuna opera buona dio ti ha aspettato ed io e gli angeli ti custodiamo sulla via della salvezza o credi che se i fedeli potessero ricevere la grazia di una simile conversione e per essi avvenissero le cose avvenute a te cosa non farebbero per amore di dio se fanno già tanti peccati ingannati dal mondo allora osserva attentamente che ti è stato dotato più che se ogni giorno ti donassero ventiquattro montagne d'oro eppure tu non rifletti su ciò e non hai timor di dio e la alludire ciò stridendo i denti per la paura e lo sgomento era diventata pallida essendosi resa conto di essere la più meschina fra tutti i miseri allora la benedetta sposa e madre di dio porse a benedetta sua serva il quinto bellissimo giglio su di esso vi era scritto ricordati dei castighi corporali che nei tempi passati furono inflitti ai peccatori ancora in vita mostrando il giglio a benedetta la madre di dio maria disse non sai quale castigo fu inflitto a saul quale castigo fu inflitto a caino quale castigo fu inflitto al faraone a data ne a biron e a molti altri quanti furono impiccati per un semplice furto quanti furono bruciati vivi o sgozzati per un solo atto di lussuria quanti poi fin dall'inizio del mondo furono fragellati incarcerati condannati esiliati e perseguitati per un semplice peccato e tu che hai commesso infiniti peccati non hai ricevuto alcun castigo per essi ti sembra forse una cosa da poco al contrario nella vita ti sono stati mantenuti doni di natura il successo che dio ti aveva tributato e nonostante tu sia stata indegna e meritevole di ogni beneficio tu hai ricevuto da dio più di tutti gli altri ella all'udire ciò si sentì rimordere la coscienza e ammise che era vero e infinitamente sconvolta gettandosi ai suoi piedi piangendo interminabilmente chiedeva umilmente perdono maria regina di pietà le porse il sesto giglio sul quale vi era scritto ricordati in questo mondo dei castighi di questa vita che proseguiranno nella vita eterna la maestra di tutte le scienze maria nostra signora spiegò ciò e disse o figlia benedetta in verità oggi molti di vita retta sono caduti nel peccato mentre tutti rialzi molti in questi giorni a causa di un solo peccato mortale moriranno ebbene un soldato che sta dormendo accanto alla sua amante in un istante morirà nel sonno per quest'unico peccato è un tale in inghilterra per un solo peccato di ira sarà decapitato e in questa città di firenze tre persone per un solo peccato saranno bruciati vivi in questo stesso giorno molti durante un banchetto moriranno per aver peccato di gola e ancora in alemania alcuni religiosi che non osservano il voto di povertà e hanno brama di possesso bruceranno con l'intero convento insieme con la cittadina vicina dal momento che la maggior parte di essi sono correi dei loro peccati e anche li sostengono e tu o scellerata fino a questo momento sei rimasta impunita sempre oggi all'improvviso alcuni diventeranno lebrosi altri dissennati altri indemoniati altri malati altri perderanno il prestigio altri perderanno la buona fama e tu che sei peggiore di tutti loro non riconosci la misericordia di dio che ti ha eletto o quanti in questo mondo vi sono e vi saranno che se avessero le rivelazioni e le occasioni di conversione che hai avuto tu con tutte le forze ritornerebbero a dio facendo penitenza guarda dunque queste cose perché ti è stata usata misericordia in queste cose più che se ti fossero stati donati cento mondi d'oro guarda dunque ascolta le cose che ti dico e convertiti a dio con tutto il cuore avendo udita ella queste parole e con una voce flebile ammise i suoi peccati avendo tutto il viso rigato di lacrime che le bagnavano i vestiti e cadevano a terra la gloriosa amorevole maria nostra signora porse a benedetto il settimo giglio su di esso vi era scritto così ricordati della dannazione degli uomini passati presenti e futuri commentando ciò la madre di pietà disse qualunque dannato se potesse stare al posto tuo si pentirebbe immensamente sono così tanti dannati presenti e futuri che se avessero ricevuto la tua grazia senza dubbio si salverebbero o quanti si sono dannati per un solo peccato mortale e tu che hai commesso così grandi colpe non sei stata ancora castigata o quanti sono stati giusti fino alla morte e avendo peccato al momento della morte si sono dannati dio è giusto e quello che fa o permette è conforme a giustizia e tu misera sei ancora viva o quanti per il solo peccato di ignoranza si sono dannati e si danneranno e tu che hai commesso così grandi peccati con piena e consapevole astuzia ancora sei protetta impunita sai che ti dico se credi convertiti se non credi di nuovo presta attenzione a ciò che dirò oggi una ragazza di 12 anni per il solo peccato della lussuria essendo stata uccisa da suo padre si è dannata per l'eternità e oggi in spagna un bambino di 8 anni si annegherà per un solo peccato di lussuria che egli ha commesso con la sorella anche se non l'ha consumato ma l'ha solo tentato sarà dannato per l'eternità e che cosa ancora oggi una signora bellissima illustre mentre condurrà le danze morirà all'improvviso alla presenza di tutti e per aver peccato con la danza sarà dannato in eterno e ancora un tale in lombardia considerato da tutti buono e giusto solo per il peccato di essersi confessato con negligenza senza esaminare attentamente la propria coscienza morirà e sarà dannato in eterno per quanto egli non sentisse in nulla rimordergli la coscienza tutti allora stiano attenti a non confessarsi più grossolonamente e negligentemente come ahimè oggi fanno quasi tutti oggi ancora in questa città quattro moriranno e un borghese si dannerà per una sola negligenza non avere accuratamente educati i suoi figli e i suoi servi a seguire i comandamenti di dio anche un curato ossia un pastore d'anime buono come persona ma assai negligente nel guidare il suo gregg e incurante durante le confessioni morirà all'improvviso e si dannerà oggi anche un religioso di un convento morirà rompendosi il collo per una caduta e si dannerà per il fatto che egli non aveva il saldo proposito di vivere secondo gli statuti e la regola del suo ordine proposito che qualsiasi religioso deve possedere almeno nel desiderio e nell'intenzione altrimenti compie peccato mortale e anche un altro religioso in un altro monastero che oggi all'improvviso morirà di peste e si dannerà solo perché recitava l'ufficio divino negligentemente e svogliatamente e tu o misera piena di peccati che in una sola ora hai peccato più di loro quattro nella loro vita non avrai timore sgomento quando proprio oggi a quest'ora due tue compagnie nel lupanare stanno per essere strangolate da alcuni scellerati e si danneranno o se ora fosse toccato a te che avresti fatto che avresti detto o che avresti pensato allora osserva attentamente rifletti che all'inferno molti sono migliori di te e nonostante tutto si sono dannati e mai si potranno salvare e tu che hai più colpi di tutti loro ancora non sei dannata che vorresti dire di più grande guarda quanto bene ti ha fatto dio che non ha fatto ad altri immensamente migliori di te vedi dunque rifletti bene e considera ciò che ho detto affinché l'ira di dio non cada su di te senza misericordia se dopo ciò tornerai la tua vita impudica infatti ti è stato fatto dono più che se ti fossero stati dati tanti mondi di gemme preziose quanto sono le stelle del cielo all'udire ciò dunque la poverina scossa anzitutto dalla morte improvvisa delle sue compagne e per aver compreso di essere una grandissima peccatrice davanti alla gloriosa vergine per l'agitazione ebbe una palpitazione di cuore così forte che le si infransero le vene e il sangue le scorreva lungo tutto il corpo e morì il popolo che stava presente gridava forte e domenico ritornando dalla messa durante la quale per le tre ore in cui benedetta era rimasta in estasi e egli aveva supplico volmente pregato per lei sapendo tutto ciò che la sua figlia aveva visto e ascoltato prendendola per la mano e facendole il segno della croce con la corona del rosario della vergine maria subito la morte restituì alla pienezza della vita alla vista di tutto il popolo lì presente che innalzava infinite lodi al cielo dopo sette giorni mentre il pissimo padre domenico celebrava nella chiesa della beata vergine benedetta era presente e vide domenico nelle sembianze del crocifisso con le stimmate e la corona di spine che andava verso l'altare accompagnato dalla vergine maria e da moltissimi angeli e quando fece la consagrazione apparve davanti ai suoi occhi cristo disteso in croce coi segni della passione e scendeva su domenico il sangue divino e lo assimilava completamente a sé dopo ciò e la vide sulla destra l'enorme libro che aveva visto in precedenza nel giudizio che era diventato bianchissimo e non era stato ancora scritto mentre ella si meravigliava grandemente della cosa udì il signore gesù cristo che ad alta voce le disse figlia benedetta mediante i sette gigli hai cancellato il tuo libro dai sette vizi capitali di ogni sorta vada bene che esso sia riscritto da capo non con le tinte nere orribili dell'inferno ma con caratteri bianchi e rossi altrimenti ritornerò nuovamente da te per castigarti e sarà la tua rovina all'udire ciò ella fortemente terrorizzata per la paura di finire nelle pene viste prima avvicinandosi e prostrandosi ai piedi della dolcissima vergine maria implorava misericordia per non finire nelle grandi pene che aveva visto in precedenza allora la regina di misericordia sollevandosi col suo mantello nel quale erano incastonate gemme preziose di ogni tipo dal suo capo sollevò la sua meravigliosa corona del rosario e disse o figlia o figlia tu me la donasti e la porto sul capo come una corona regale e mio figlio che vedi appeso alla croce ha anche lui una corona regale di meravigliosa bellezza e splendore che tu ci donasti e mediante essa con l'aggiunta dei gigli tu hai cancellato il tuo libro di morte ora dunque o figlia agisci con perseveranza ecco ti consegno il mio rosario col quale da oggi in avanti cancellerei peccati tuoi e quelli degli altri e come la prima cinquantina è composta di 50 pietre preziose bianche così con lettere splendenti scriverai il tuo libro quando reciterai i misteri dell'incarnazione del mio figlio divino gesù cristo meditando i miei privilegi che hanno avuto le varie membra del mio corpo nello stare in contatto col mio figlio dunque il mio capo che amorevolmente piegavo su di lui le mie orecchie con le quali ascoltavo la sua voce le mie mani materne e virgine con le quali toccavo le sue tenere straordinarie membra e le dedizioni materne che adoperavo per lui in tutte le sue membra dalla testa ai piedi recitando poi la seconda corona scriverai il tuo libro a lettere rosse quando reciterai devotamente le ore della passione del figlio mio questa corona è composta di 50 gemme preziose rosse durante le quale mediterai allora i 50 misteri della passione del mio figlio e avendo dinanzi a te l'immagine del crocifisso che offrendo una memoria per ognuna delle sue piaghe mediterai anche il dolore di ciascun membro scriverai poi il tuo libro a lettere d'oro recitando la terza corona del rosario che sarà in onore dei santi sacramenti e contro i tuoi peccati e come immagini userai le effigi della tua chiesa e della tua patria e mediterai sia sull'una che sull'altra percorrendo le spiritualmente e su ciò ti soffermerai nella terza corona del rosario composta da aure e grani così dunque o figlia in questo rosario servirai devotamente me e il mio figlio come lo dicessi all'inizio e quanti rosari ci offrirai altrettante corone regali di infinito valore circonderai le nostre teste dando a noi onore e dignità regali al momento della comunione di quella meravigliosa messa avendo preso san domenico la particola dell'ostia imbevendola nel calice del sangue di cristo comunicò la vergine maria segno questo della loro grandissima e singolarissima amicizia e maria proprio con la confidenza di una sposa verso il suo sposo alla fine della messa lo aiutò a deporre le vesti sacerdotali infine dopo averlo umilmente salutata san domenico affidò a maria santissima benedetta le cui vicende erano già accadute ed ella accettando disparve dai loro volti e in seguito benedetta completamente liberata dai demoni e ferma nella retta intenzione perseverò sino alla fine al servizio del rosario di cristo e della vergine maria con santa devozione e fervente penitenza tanto che nostra signora in seguito le appariva sovente rivelando le numerose geste di domenico che nessun uomo conosceva e che in parte furono scritti nella leggenda di frat tommaso del tempio che era della spagna e compagno del nostro santo padre domenico da tale leggenda sono stati tratti molti altri racconti leggendari che hanno tramandato fino a oggi le gesta di san domenico tali gesta di recente sono state nuovamente confermate per rivelazione di cristo e della vergine maria con grandi segni e prodigi e di tutto ciò offro sicura testimonianza e do garanzia chiamando a testimonio la santissima eternità affinché mi infligga ogni castigo se fossi uscito dal retto sentiero della verità allora convertitevi dalla vostra vita malvagia e ritornate a cristo e alla vergine maria madre nostra per mezzo del suo santissimo rosario dal momento che gesù e maria hanno nuovamente rivelato in questi tempi la loro volontà che il santissimo rosario sia predicato insegnato e recitato da tutti per estirpare ogni male e ottenere ogni bene e in particolar modo contro i mali che sovrastano il mondo intero nel tempo a venire se i popoli non faranno penitenza allora voi tutti lodate dio nel salterio del rosario a dieci corde ossia recitando 15 pater noster e a ognuno di essi soggiungendo dieci ave maria che sono in tutto 150 secondo il numero dei 150 salmi del salterio di davide in ognuno dei quali l'amorevole vergine maria è stata prefigurata ci conceda la grazia del rosario gesù cristo figlio di maria e di dio benedetto nei secoli dei secoli amen esempio 3 benedetta di spagna vi era una vergine di nome benedetta figlia di un nobile conte del regno di spagna parente di san domenico fondatore dell'almo ordine dei frati predicatori e a casa dei genitori fu educata tra le vanità e i diletti mondani era assai bella nel fisico fine e ardita e assai più delle altre sapeva tirare a sedere esperta su ogni vanità del mondo e nell'eloquenza mondana sapeva cantare intonare in modo meraviglioso ed insuperabile tanto che non vi era alcun cantore ecclesiastico che osasse anteporsi a lei per capacità musicale ella sapeva anche danzare magnificamente al suono delle cetre degli organi e degli altri strumenti musicali era capace di giocare così bene a scacchi a dadi e a simili giochi mondani che tutti la chiamavano la maestra e essendo anche molto valorosa era così abile nei tornei con le aste e nell'arte della spada che in tali discipline non esisteva nessuno capace di batterla tuttavia la cosa più grave era che ella pur sovrabbondando di grazie mondane era assai libera nel modo di vestire e stava sempre tra le musiche e le scene di duelli e aveva conquistato tutti i cuori e tantissimi pretendenti giungevano dalle varie parti del regno a tratti della sua fama e anche per i conviti dei nobili il padre e la madre la portavano con sé per condurre i canti e le danze serali e naturalmente per gli etari convitati con i suoi discorsi e le sue risposte e avvenne che quando ella aveva quasi vent'anni d'età un soldato si è accese d'amore per lei e vedendola così libera cercava di capire in che modo potesse avvicinarla diceva tra sé e sé il pesce non può star fuori dall'acqua nella cerva fuori dal bosco senza essere presi infatti non è possibile che costei che si espone a tanti pericoli vivendo tra le vanità almeno una volta non sia presa almeno una volta non riesca a fuggire così egli organizzò un magnifico convito in grande stile e invitò prima di tutti gli altri convitati il padre e la madre di benedetta insieme alla stessa con la scusa di intrattenere gli ospiti e mentre tutti durante il convito si dilettavano tra danze e frivole canzoncine e giochi curiosi il soldato offrì a benedetta come dono d'amore un anello d'oro e una collana bellissima ma di nascosto e la li accettò volentieri come li aveva accettati anche da altri mentre allora tutti si divertivano ai giochi di benedetta ed erano strabiliati della sua bravura ed eleganza di stile il soldato agli altri versava profusione vino ad alta gradazione mentre a benedetta versava vino bianco nella coppa e con l'inganno lo mesceva con altro vino bianco che aveva messo nell'ampolla al posto dell'acqua avvenne allora che la vergine mondana divenuta ormai ubriaca venne catturata infatti dal momento che i suoi genitori si erano abbastanza assopiti per il vino ed erano immersi nei festeggiamenti ahimè quella misera uscì con il soldato a vedere le varie stanze e gli altri posti del castello da sola e con lui solo e in questo modo vergognosamente la macchiò dell'orribile fango della lussuria la ritornata dei suoi iniziò a diventare di gran lunga più licenziose così dunque di nascosto in quell'anno abbastanza spesso stette con quel soldato e concepì un figlio a disonore suo di tutta la sua stirpe e lo partorì nella casa paterna piangeva non solo lei ma anche i genitori e tutti quelli che la conoscevano e l'intera città era dispiaciuta e nel regno si commentava la cosa con dolore e sconcerto dal momento dunque che ella soffriva ingiuri e irrisioni infinite da parte dei servi e delle ancelle della casa e dal momento che il padre cercava di scoprire l'autore dello stupro e cercava di farla parlare a forza di inerbate ella tuttavia in nessun modo voleva svelare chi fosse l'autore dello stupro tanto era ferma una volta però sentendosi quasi venir meno le forze essendo stata sversata oltremisura disse al padre convoco padre tutta la tua casa e indicherò finalmente l'autore di tale nefandezza quando tutti furono riuniti ella davanti a tutti disse tu solo padre hai generato questo figlio e tu o madre mia sei proprio tu e solo tu lo hai partorito dal momento che tutti erano sbalorditi e la disse non impressionatevi nobili signori perché ho detto questo a mio padre e mia madre perché sono loro che mi hanno introdotto i fasti alle vanità di tutti gli spettacoli del regno facendo di me la principessa delle vanità quindi disse loro allevate vostro figlio infatti se voi dopo questo mi disprezzate perché mi avete fatto diventare così voglio andar via subito da qui addio voglio essere la meretrice del mondo intero e piangendo dopo aver riempito di offese con immenso odio l'intera famiglia nel regno di spagna divenne proprio una meretrice trascorsi sette anni tra i precedi della carne attirando a sé un gran numero di uomini fino a diventare una celebre meretrice e divenuta perciò molto ricca radunava damigelle di uguale sceleratezza ed era considerata una delle più grandi seduttrici aveva i servi con la divisa militare e partecipava a tutti i tornei con grande sfarso ed era la ignominiosa consolazione del gareggiante che vinceva e ancora dal momento che come si è detto essa conosceva perfettamente l'arte del combattere e la stessa combatteva con la spada nei duelli contro chiunque e in particolare superava tutti nel combattimento con la lancia e ancora ella era così forte ed energica che riusciva a combattere contro due uomini e per quanto fossero possenti rivinceva per questo tutti spasimavano per lei e reputavano un traguardo poter stare tra le sue braccia per lei molti furono uccisi per eccesso d'ardore e a causa sua moltissimi persero tutto la sua fama si diffuse ovunque in tutte le province le regioni della spagna una volta avvenne che ella stava per iniziare un duello e fu riferito a san domenico che era suo parente che vi era lì una donna che duellava la quale raccoglieva più popolo lei in un giorno che lui se predicava un mese egli avvicinato su a lei senza farsi scorgere dai ragguardevoli servi in divisa militare che la attorniavano le disse o figlia hai servito abbastanza il mondo ora per amor del cielo servi il tuo creatore le portò allora moltissimi esempi su cristo e i suoi santi ma ella disprezzò tutte queste cose come vaneggiamenti dicendo o domenico domenico se in segreto tu avessi me o una delle mie damigelle faresti certo una cosa diversa da quella che ora mi insegna a fare e lui o figlia o figlia su ciò che affermi tra tre giorni dio sarà giudice tra te e me cosa meravigliosa e svalorditiva per tutti gli uomini tre giorni dopo la donna si imbatté in sei mali in quel giorno infatti ella all'improvviso perse le facoltà sensitive e delirava ma aveva a dei piccoli sprazzi di lucidità intellettiva a causa di ciò subito venne disprezzata da tutti e i suoi servi dopo averla depredata di tutti i suoi beni lasciarono sola la poverina ed era sempre inquieta e imprecava contro dio così dunque benedetta figlia di eva dopo tanta vanagloria di cui si era servita per il piacere della carne in corse nella prima maledizione di eva ovvero la perdita delle facoltà sensitive ella non era più benedetta ma al contrario maledetta la settimana seguente le incorse nella seconda maledizione di eva ossia l'infamia il contrario della dignità di maria eletta mediante il tu infatti tutti i suoi servi come si è detto si diedero la fuga e scappando a sua insaputa la depredarono di ogni bene e la lasciarono in totale abbandono tutti coloro che la conoscevano non avevano alcuna comprensione per lei che era diventata dissennata e la deridevano la schernivano e i fanciulli le lanciavano fango e sassi e nessuno glielo impediva la quarta settimana non era migliorata affatto e imprecava con impazienza contro dio quando ecco all'improvviso ella fu colpita da un'orribile lebra e la sua carne si imputridì tanto era l'odore ripugnante che essa emanava che nessun uomo assolutamente riusciva a resistere e questo era così insopportabile per lei che quando era fiorente si profumava con fragranze aromatiche era così amareggiata nel cuore per questa situazione così insopportabile che era diventata furiosa infatti a motivo di questa lebra all'improvviso era diventata orrenda al contrario della bellezza di maria al di sopra di tutte le donne in mulieribus ma dal momento che neppure così si era convertita incappone la quinta maledizione di eva l'infermità e la debolezza del corpo infatti ella che un tempo era forte e vigorosa quanto due uomini fortissimi anche più divenne così inferma nel corpo che non riusciva più a muovere né le mani né i piedi e non riusciva neppure a mangiare e viveva sola e abbandonata in un tugurio in un luogo solitario per misericordia di dio le era rimasta solo una serva fidata e votata a dio che per quanto poteva la serviva per amor di dio offrendole l'aiuto necessario nessun altro si prendeva cura di lei perché tutti la sfuggivano come la maledizione di dio e affermavano che era rischioso arrecarle aiuto e questo a sconto dei tanti peccati che la fece nel mondo per aver condotto alla perdizione tante anime con le sue vanità e lascivie la cosa più terribile era allora che ella che un tempo era così florida ricca e licenziosa ora era senza forze e ripugnante a tutti i sensi e ormai giaceva nella melma dei suoi nauseanti e scrementi per tre lunghi anni fu inchiodata a letto e per la posizione fissa le vennero le pieghe da decubito e le sue carni si lacerarono e si riempirono di vermi così incappone la sesta maledizione di eva il discredito generale tanto che in quei territori ovunque si parlava di lei per ironizzare se qualcuno infatti voleva augurare il più grande male ad un altro diceva così il signore ti ricompensi come ha ricompensato benedetta e questa maledizione era il contrario della benedizione di maria che sia nella parola dell'ave maria e benedetto et benedictus quando dunque alla fine dei tre anni san domenico ritornò in quei luoghi per predicare andò da solo a visitare la sua prigioniera e si presentò a lei ma ella non lo riconobbe infatti aveva perso la vista e tutto il suo volto era così corroso che apparivano le ossa poiché tuttavia aveva di tanto in tanto degli sprazzi di lucidità san domenico iniziò a predicarle molte cose su cristo e sui suoi santi ma in vano ella tuttavia mentre san domenico parlava lo riconobbe e con le deboli forze di cui disponeva non solo non si convertì quanto si infiammò di ira e maledisse san domenico dicendogli che era lui la causa di tutti i suoi mali e delle sue sventure e gli disse che se avesse potuto lo avrebbe ucciso con le sue mani san domenico sopportò queste cose senza risponderle nulla e le disse o figlia scegli ora quello che vuoi o morire entro un mese e finire per sempre all'inferno o affidarti alla vergine maria recitando ogni giorno il suo rosario e parlando le dolcemente la convinse a confidare con tutte le sue forze nella comunione delle buone opere della confraternita della vergine maria che i devoti rosarianti di maria santissima in essa ottengono per potersi avvantaggiare almeno di qualcuno dei meriti della confraternita per recuperare ciò che ella aveva perduto e ottenerne anche di più grandi all'udite ciò spaventata dall'inferno e invogliata dalle promesse di maria santissima accettò di recitare il rosario e di poter entrare per sempre nella confraternita chiese a san domenico di insegnarle ogni cosa per poter al più presto cominciare a recitarlo così dunque dopo i sei mali di eva ella iniziò per grazia di dio a ricevere sei benefici mediante il rosario della vergine maria infatti già alla fine della prima settimana da quando aveva iniziato a recitare il rosario gli fu restituito perfettamente l'uso dei sensi con una rinnovata coscienza delle virtù morali poi alla fine della seconda settimana le rivenne dato onore dal momento che alcuni nobili iniziarono a farle visita e a donarle parte delle loro rendite nobiliari alla fine della terza settimana tutte le notti si vedeva tutto il suo tugurio illuminato e si udivano di suonare le voci di un coro certamente gli angeli che si rallegravano della sua conversione così che tutti iniziarono a temere dio e a rispettarla e così quella che prima era ultraggiata fu in così breve tempo meravigliosamente osseguata da parte di dio e della beata vergine maria alla fine poi della quarta settimana le apparve la vergine maria e con il suo latte virginio cosparse tutto il suo corpo ed ella guarì dalla lebra e recuperò l'antica bellezza e la crebbe verso la fine della quinta settimana le apparve di nuovamente la madre di dio le offrì una bevanda e dopo averla gustata e la divenne più forte di prima e riuscì ad alzarsi dal letto e ora aveva rispetto a prima la forza di quattro uomini alla fine della sesta settimana e la recuperò in pieno la sua fama che aveva perduto e tutti parlavano di lei elogiandola grandemente erano sorpresi della sua guarigione e se ne rallegravano e si congratulavano con lei e riceveva anche molti più regali che in precedenza essendo giunta la sua fama presso un re che onorava e venerava la madre di dio questi preso dall'ammirazione per benedetta dopo aver deciso tra sé e sé affermò senza esitazione davanti a tutti che nessun'altra egli avrebbe desiderato come moglie al di fuori di benedetta tutti gli aristocratici si meravigliarono grandemente e davanti a loro furono celebrati gli sposalizi reali e a motivo di ciò fu cancellata l'infamia sulla sua persona e sulla sua stirpe appena ella divenne regina e divenne pari al re il suo primo pensiero fu di riportare l'intero regno al culto verso la madre di dio e a far recitare il rosario le antiche chiese della spagna betica e la abbellì accuratamente e in esse fece predicare il rosario che da tutti venne accolto con gioia il regno all'interno era agitato da guerre civili e tutto intorno da ogni parte i saraceni minacciavano guerre il re affaticato dai mali interminabili delle guerre ricorse alla regina sua sposa che il cielo gli aveva mandato in aiuto e lei stessa piena dello spirito santo di fortezza così consolava il re signore mio re se così a te piace una sola cosa ti chiedo che tu regga lo scettro del timone del regno e governi il reame nel tempo di pace le guerre invece ti chiedo di affidarle a me e mentre io pregherò il rosario la tua maestà curi di adempiere fedelmente quanto ti suggerirò dio per mano di una donna abbatterà la superbia dei nemici abbi fiducia o mio re perché in questa mano destra ho una potenza ancora più forte del vigore che tu hai nel corpo acconsentì il re all'udire che era dio stesso a condurre l'impresa e concesse quanto ella aveva chiesto non vi era giorno nel quale la regina non recitasse il rosario prima di scendere in battaglia ugualmente sortava anche il suo esercito a recitare il rosario e non permetteva a nessuno di scendere in battaglia se prima non avesse recitato per un certo tempo il rosario e la in verità alle sue preghiere aggiungeva segrete penitenze e così scendendo in battaglia vinse e mise in fuga gli eserciti dei nemici e spesso capitava anche che si ritiravano e fuggivano prima ancora che lei apparisse questo certamente avveniva per la potenza del rosario e per il soccorso della madre di dio e questo non capitò solo una volta ma era così frequente da sembrare una cosa abituale che cento soldati del re vincessero mille avversari ovvero che cinque soldati del re vincessero cento nemici ovvero che cinquecento soldati del re battessero quasi tremila nemici tutti lodarono grandemente i grandi successi alle vittorie militari della regina lo stesso sultano dei saraceni la lodava grandemente e nutriva per lei una grande ammirazione e rispetto quando ritornò la pace nel regno la regina si adoperò con ogni solersi e premura perché la devozione al rosario della beata maria vergine già recitato in tutto il regno rimanesse saldo in avvenire per realizzare ciò ella istitui una confraternita del rosario e la sostenne moltissimo e infine dopo una lunga vita virtuosa la soccorritrice maria santissima le preannunciò la morte 150 giorni prima della sua fine nel momento della morte e la vita gesù e maria che la visitarono dolcemente espirò in grande contentezza e avvenne una cosa meravigliosa che tutti videro e udirono che uccellini di ogni specie cinguettando suovemente dal cielo vennero al castello e l'intero stormo si fermò sul castello e cantava una delcissima melodia esempio 4 la vergine alessandra al tempo della predicazione di san domenico nel regno d'aragona vi era una vergine di nome alessandra la quale già da molti anni aveva scritto il suo nome nel libro della confraternita del rosario ma recitava il rosario asseraramente essendo preso dalle altre vanità e infatti ella perdeva tutta la mattina per farsi bella cercava l'amicizia dei più fatui e ne aveva sedotto tanti illudendoli per lei furono compiuti non pochi duelli e omicidi quando ecco che un uomo che la desiderava in sposa sostenne pubblicamente un valuroso duello per lei che era presente e avendo iniziato il combattimento con la sua lancia si scagliava contro le altre lance e con sveltezza li gettava giù da cavallo e col desiderio di diventare il suo sposo prendendo le moglie sconfisse gli altri concorrenti e quegli dimentico della sua vita una volta sbaragliati gli altri concorrenti divenne il vincitore alla fine dopo aver sconfitto tutti orgoglioso di sé chiamò alessandra nonostante siano tanti per mortuo conquisterò la tua mano non dubitare non aveva ancora finito di parlare che ecco dal numero dei contendenti si fece avanti uno e lo sfidò a duello dal momento che anche lui desiderava alessandra e disse coraggio se sei un uomo osa pure gareggiare con me detto fatto corsero insieme e con un reciproco colpo di lancia caddero entrambi e vomitando sangue dai polmoni bestemmiando entrambi ferocemente gli infelici esalarono lo spirito vi erano lì presenti parenti amici carissimi di entrambi gli uccisi i quali sconvolti dall'atroce spettacolo e dall'orrenda morte di entrambi si infuriarono con alessandra e avendo preso le armi e dirigendosi verso di lei la assalirono e scagliandosi addosso a lei con le loro spade la uccisero né sorte migliore toccò agli amici che la accompagnavano la maggior parte dei quali andò incontro alla morte alessandra era creduta morte tanti erano stati colpi di spada che l'avevano trafitta ma ella non riuscendo a morire domandava di continua voce alta un confessore avvenne una cosa terribile quando gli omicidi si accorse udirono che ella chiedeva un confessore affinché non li accusasse le tagliarono la testa e la gettarono in un pozzo pieno di fango san domenico che allora stava a oxonia per rivelazione venne a conoscenza del fatto così come si era svolto ma non subito ma dopo 150 giorni inviai domenico sposo mio carissimo disse maria al luogo dove giaceva la testa di alessandra san domenico giungendo infine presso quel luogo chiamò alessandra alla bocca del pozzo subito la sua testa come se le fosse stata staccata da poco emerse davanti a san domenico alla superficie del pozzo e come in precedenza domandava un confessore ella si confessò con san domenico e con grandissima devozione ricevette la santa comunione e fa unta con la sacra estrema unzione subito dopo e la ringraziò moltissimo san domenico e gli disse certamente si sarebbe dannata se non fosse stata salvata per i meriti della confraternita del mio rosario ella aggiunse anche che dal momento che i numerevoli demoni avrebbero voluto rapire la sua anima maria santissima benedetta che sempre l'assisteva l'aveva soccorsa e l'aveva conservata ancora in vita e diceva inoltre che per aver fatto dannare i contendenti uccisi per 200 anni ella doveva stare tra le pene del purgatorio e per la vanità nell'apparire e gli sfarsi con i quali aveva fatto peccare innumerevoli persone doveva scontare altri 500 anni tra le pene durissime del purgatorio ella tuttavia confidava molto nell'aiuto dei confratelli del salterio per essere presto liberata così dunque in un campo santo il capo fu sepolto con onore da una moltitudine di persone affrante molte delle quali assai piamente decisero di entrare nella confraternita del mio rosario infatti in tanti avevano sentito parlare la testa tagliata di alessandra infatti ella rimase in vista quasi due giorni continui dopo la confessione fatta da san domenico per la lode della mia confraternita e per completare un certo numero di rosari che san domenico aveva dato per penitenza la mia prigioniera dopo 150 giorni alessandra apparve a san domenico splendente come una stella e disse a lui tre cose anzitutto che era stata mandata da tutti i fedeli defunti a dirgli che tutti i fedeli defunti lo supplicavano di predicare il rosario la confraternita del rosario della vergine maria e che i loro amici e parenti viventi della confraternita fossero certi che i defunti con le loro preghiere potevano accrescere i loro meriti così come anche i viventi con le loro preghiere di suffraggio potevano concedere loro la misericordia e promettevano di restituire mille volte di più il contraccambio nella gloria poi è la ringrazio san domenico della sua liberazione infine disse che gli angeli santi si rallegrano della confraternita del rosario e che gli angeli santi avevano scelto come loro confraterni i rosarianti di maria santissima e li prediligevano e questo era possibile dal momento che dio è il loro padre e la beata vergine maria è loro madre dette queste cose disparve e guidata da me giunse alla gloria esempio 5 la nobilissima lucia di spagna che era in spagna al tempo di san domenico come narra giovanni del monte nel suo mariale una piissima donna che dalla giovinezza serviva a dio e la vergine maria nel rosario di maria seguendo gli insegnamenti e consigli di san domenico essa si chiamava lucia ed era nata in una ragguardevole famiglia ma era ancora più ragguardevole nella fede e l'aveva sposato un soldato ed era incinta quando ecco i pagani invasero il regno di granata e dio permise che i devastatori armati le uccidessero il marito e lei fatta prigioniera fosse portata insieme a molte altre donne in regioni pagane e finisse al servizio come schiava di un ferocissimo tiranno che la trattò come la più vila delle serve facendole svolgere le mansioni più umili né quei malvagi avevano alcun riguardo per lei che era gravida ma la colpivano spesso con percosse sversate giunse infine il tempo del parto che avvenne alla mezzanotte del natale del signore senza che alcuno lo sapesse ed ella partorì da sola tra i buoi e le pecore proprio come un animale ella tuttavia in quella sofferenza non tralasciava mai di recitare il rosario di maria e maria le ottenne una grazia strabiliante infatti in quell'ora del travaglio del parto mentre era afflitta dai dolori essendo il suo primo parto era piccolissima di età aveva infatti 14 o 15 anni e per questo era impacciata impreparata e inesperta ella sentì le doglie e non sapendo cosa fare mancandole ogni aiuto umano ebbe solo la forza di prendere la corona del rosario di maria e in quella notte pregò tantissimo la vergine maria per quanto il dolore si aggravasse sempre più la regina di clemenza che non chiude mai il cuore a coloro che la servono venne accanto all'afflitta e prendendo il posto dell'ostetrica lavò il bambino e tagliò l'ombelico e dal momento che non c'era nessuno che lo battezzasse all'improvviso giunse un sacerdote dall'aspetto venerando che splendeva di luce infinita e aveva sul capo una corona di spine e le mani con le stigmate non insanguinate ma risplendenti come fuggi di stelle egli giunse con un diacone un sud diacono portando con sé il sacro crisma battezzò il bambino e lo chiamò mariano maria la madre di dio teneva il bambino e col nome della madrina maria il figlio di lucia fu chiamato mariano lucia era così incantata che per la meraviglia si era dimenticata del dolore dopo che ebbe ricevuto il battesimo maria consegnò il figlio di lucia dicendo o figlia ecco il tuo figlio consolati e vai avanti ti prometto infatti che per l'avvenire il soccorso ti verrà dal cielo e disparve dalla sua vista e lucia rimase col figlio nell'umilissima stalla piena di gioia per la visione era sbalordita perché il dolore le era passato completamente e si sentiva forte come non mai prese allora suo figlio e lo pose sulla paglia tra le pecore come maria posse il figlio suo gesù nella mangiatoia lucia poi rimase lì fino al giorno della purificazione di maria vergine lodando sempre maria nel suo rosario e all'improvviso la mattina di quel giorno giunse presso di lei un giovane dal volto splendente le disse o figlia dal momento che non ti sei purificata secondo quanto chiede la tradizione cristiana preparati a essere purificata dal momento che sei battezzata e la rispose signore qui non c'è una chiesa né un sacerdote nel popolo fedele quegli le disse al contrario ora ti condurrò a una chiesa bellissima dove vedrai cose meravigliose e udrai cose meravigliose e così lucia portando tra le braccia il suo bambino seguì il giovane e arrivarono davanti a una chiesa incantevole alla soglia della chiesa le andarono incontro la maddalena e sant'anna madre di maria le quali prendendo lucia per mano l'accompagnarono fino al coro ed ecco la gloriosa vergine maria parvi a lucia e le disse benvenuta figlia molte volte mi hai presentato il figlio mio nel mio rosario ora io ti presenterò a lui insieme al tuo figlio per la tua purificazione maria la prese per mano e la fece entrare all'interno della balaustra dove vi era il trono regale di maria e la invitò a sedersi accanto all'altare maggiore e venne quel sacerdote che l'aveva battezzato il figlio e con indescrivibile sua vita celebrò la messa quando giunse all'offertorio maria della sua lucia un cero e la invitò a esibirlo esso era diviso in tre parti e ciascuna parte aveva cinque lampade magnificamente adornate e quel cero pur essendo a sé grande era più leggero rispetto ad altri ceri sorse anche un interrogativo tra lucia e maria chi per prima dovesse baciare la mano del sacerdote celebrante maria però esortò lucia a baciare per prima la mano del sacerdote dicendo oggi tu sei stata purificata io invece fui purificata molto tempo fa conviene dunque che sia tua a baciare per prima la mano così lucia baciò la divina mano del cristo celebrante e subito dopo la baciò maria così ritornate al loro posto lucia per prima sedette e quando sul finire della messa entrambe andarono a fare la comunione prima si comunicò lucia poi maria dopo aver ricevuto la comunione contemplava e meditava i meravigliosi misteri divini poi gioiosa e raggiante maria la condusse alla porta della chiesa e maria le disse custodisci o figlia quello che hai ricevuto e persevera nell'opera che hai iniziato ti ricondugo infatti ora alla tua terra e subito verso l'ora decima lucia si trovò insieme al suo bambino nella chiesa di san giacomo ella infatti era originaria di compostela ma era stata maritata nel lontano regno di granada ella rimase in clausura per il resto della sua vita e il suo piccolo figlio mariano rimase in clausura con lei e dopo la morte gloriosa della madre la cui anima la gloriosa vergine maria condusse con grande sultanza ai gaudi eterni mariano rimase qui come eremita ricolmo di ogni virtù rifuggendo la gloria mondana e rimanendo sempre al servizio del rosario della vergine maria tra molte rivelazioni e durante un'apparizione della vergine maria egli concluse la sua vita beatamente perciò o donne e bambini istruiti da questo esempio lo date la vergine maria nel suo rosario ripetendo sempre ave maria esempio 6 maria contessa di spagna maria era la figlia di un potente conte del regno di spagna il padre e la madre le avevano insegnato talvolta con l'imposizione talvolta convincendola con belle parole e offrendo le ciliegie talvolta costringendola con percosse a pregare prima del pranzo una cinquantina del rosario della vergine maria dopo pranzo una seconda cinquantina a mani giunte e in ginocchio e la terza cinquantina prima di dormire ella così giunse all'età della pubertà e del discernimento e i genitori desidero di maritarla ella anche dopo il matrimonio non tralasciò quel santo proposito e perseverava meditando devotamente il rosario e disciplinandosi tre volte al giorno con almeno cinquanta colpi ogni volta le cose nuove hanno freschezza le cose antiche hanno sapore e dal momento che ebbe dieci figli e figlie li allevò accuratamente nel timor di dio come si addice alle buone madri in seguito il vescovo di parigi maestro e dottore in teologia e in diritto civile canonico andò nella città di questa signora contessa e ivi iniziò a predicare fortemente allora la contessa maria andò da lui domandandogli se potesse insegnarle un esercizio mediante il quale ella riuscisse a giungere ad una vita di perfezione ed egli vedendo che era sposata rispose che doveva fare sette esercizi il primo amare il marito il secondo essergli fedele il terzo la misericordia verso il prossimo il quarto la rettitudine in famiglia il quinto evitare le chiacchiere il sesto operare sempre il bene il settimo onorare la chiesa di dio e custodire i propri figli sempre nel timor di dio e la rispose che quelle cose già le osservava attentamente e voleva progredire allora il vescovo le disse o signora maria dal momento che sei maritata non è proprio possibile che tu possa fare di più accontentati dunque di servire il signore mediante questi esercizi ma ella replicò o benevolissimo signore se non volete darmi un consiglio almeno ascoltate brevemente la mia vita affinché io non sia tratta in inganno perché sono una principiante ed egli rispose volentieri allora ella raccontò che recitava ogni giorno le tre cinquantine del rosario della vergine maria e tre volte al giorno lo meditava e si disciplinava e disse quando recito la prima cinquantina del rosario pongo lo sguardo sulla vergine maria e per ciascuna delle sue membra disposizioni e azioni recito un ave maria per esempio agli occhi che hanno visto il figlio di dio un ave maria agli orecchi che udirono la voce angelica una ave maria e così via per le altre membra e disse che così facendo e la sentiva che dalle membra della vergine discendeva sulle sue membra un ineffabile dolcezza che superava ogni consolazione del mondo recitava poi la seconda cinquantina del rosario in onore della passione di cristo e poneva lo sguardo su cristo crocifisso meditando così per i capelli strappati diceva un ave maria poi un ave maria per la corona di spine e così a scendere per le altre membra fino ai piedi e nel recitare e meditare così questa cinquantina sentiva che dalle membra di cristo discendeva su di sé una dolcezza così grande da sentirsi trasformato tutto in cristo e ricolmo della compassione dell'amore di cristo mentre tutto il mondo gli era di pena in confronto a quell'amore che egli aveva e sentiva nell'anima recitava poi la terza cinquantina del rosario davanti alle immagini dei santi di ciascun altare della sua chiesa e cappella dicendo in onore dei nove cori degli angeli dieci ave maria un ave maria in onore di san giovanni battista un ave maria in onore di san giovanni evangelista e così per gli altri santi meditando anche la loro vita e domandando loro di confortarle e darle coraggio e durante le meditazioni spesso aveva un tale trasporto verso il signore da smarrire i sensi esterni come santa elisabetta langravia e aggiunse che faceva queste meditazioni tra digiuni e discipline ed aveva cura che tutti i poveri recitassero il rosario il vescovo all'ascoltare ciò profondamente commosso e ammirato disse tra le lacrime o maria figlia mia carissima ecco io sono vescovo e dottore in teologia in diritto civile e canonico da quasi vent'anni e tuttavia non ho mai sentito un tale esercizio spirituale perciò da questo momento tu sarai la mia maestra ed io il tuo discepolo e all'istante davanti agli occhi di tutti egli pose una corona del rosario alla sua cintola e all'indomani cominciò a predicare il rosario di maria vergine e il popolo vedendo che un così eminente vescovo predicava e portava la sua cintola la corona del rosario molti si convinsero a recitare il rosario della vergine maria sia per l'esempio che per la predicazione del santo vescovo dicendo se un così eminente signore porta addosso e recite il rosario di maria senz'altro esso avrà qualcosa di grande noi allora giustamente dobbiamo fare la stessa cosa dal momento che siamo peccatori così in tutta quella terra in lungo e in largo si diffuse ovunque la devozione al rosario infine la vergine maria nostra signora apparve alla contessa maria preannunciandole la sua dipartita e mentre ella moriva la vergine maria le fu accanto e accompagnata dalla schiera degli angeli e dei santi condusse la sua anima radiosa come il sole ai gaudi eterni come tanti ancora ricordano dopo aver ascoltato quanto fece maria mediante il santissimo rosario lodate maria affinché anche voi meritiate di essere condotti insieme a lei nel regno dei cieli amen esempio 7 la monaca di clausura e il monastero riformato grazie a rosario un conte benestante aveva molte figlie temendo di non poter dare a tutte le figlie delle nozze convenienti rispetto alla sua origine votò a san benedetto la figlia più delicata e la più bella che era ancora in tenera età affidandola alle monache del suo ordine per compiere insieme a essi la scorciatoia della vita la vergine fece la vestizione e poi questa come le altre figlie dei nobili visse nei trastulli questo monastero di monache si preoccupava poco o nulla di osservare la regola ma come un greggio che va fuori strada era precipitato nel baratro dei peccati il confessore di quel monastero parlò così a quella vergine fai qualche esercizio che ti custodisca dall'ozio e che ti faccia servire con purezza dio e la beata vergine ed ella rispose mi domandi o padre una cosa che non conosco sono giovane avvezza i trastulli se c'è qualche lavoro da fare io proprio non mi sento pronta e lui rispose non dà noia né di grande sforzo ma dà tanto sollievo e accresci i meriti ed ella rispose che cos'è c'è di cui parli tanto lodevolmente indica malo o padre senza indugio te ne prego ed egli rispose il rosario porta il nome di maria ed è formato da centocinquanta avemarie e a ogni dieci avemarie si alterna un paternoster come ho sentito dire riguardo a san domenico questo figlia è senza dubbio l'esercizio più eccelso e lodevole per intessere un dialogo con il cielo ed ella rispose lo saprò con l'esperienza se è così come dici e lui ascolta bene allora ciò che ti dico sul modo in cui ti dovrai esercitare reciterai la prima cinquantina ripensando e meditando su qualche punto dell'incarnazione di cristo reciterai la seconda cinquantina meditando qualche punto che ti giova della sua passione reciterai la terza cinquantina per i tuoi peccati e insieme chiedendo il suffraggio dei santi dei quali sei maggiormente devota imitandone gli esempi la giovane colpita profondamente da questi avvertimenti vantaggiosi li accolse e recitò il rosario con animo gioioso e con grande devozione e la mediante tale occupazione rimase incolume dai molti mali nei quali invece si trovava erretito quel monastero di monache e non solo acquistò la salute fisica ma anche divenne straordinariamente bella nel corpo dal momento che in precedenza quando ella stava nel mondo si ammalava facilmente e soprattutto a motivo di questa fragilità fisica i genitori l'avevano offerta all'ordine religioso i genitori dunque al sapere che stava in salute e vedendo che era diventata molto bella tentarono di impedirne la professione ancora infatti non era professa e desideravano darle sposa al nobile figlio del re di spagna ma ella temendo più dio che i genitori fece la professione religiosa a tempo debito divenuta così professa dal momento che ogni monaca aveva il proprio amico innamorato coi quali sollevano cantare nel coro bere e fare molte altre pessime cose molti aristocratici avendo saputo che giovanna era nobile e bella la desideravano come amica e le inviavano lettere dove dichiaravano i loro sentimenti ma ella angustiata buttava le lettere nella cloaca riponendo il suo amore soltanto del suo dio gesù e nella sua madre gloriosa tuttavia il nemico del genere umano vedendo ciò e provando invidia per lei aizzò le altre monache contro di lei dal momento che lei non si comportava come le altre e perciò le altre disdegnandola la perseguitavano e la chiamavano ipocrita né per questo desistette da ciò che aveva intrapreso ma con devozione ancora più grande invocava la vergine maria chiedendo che le desse consolazione e pazienza talvolta mentre ella pregava così la sempre vergine gloriosa e benedetta portandole una lettera gliela posse dinanzi e in essa vi era scritto così maria la madre di dio saluta giovanna figlia di dio e inoltre vi erano contenuti tre consigli che se ella avesse compiuto prontamente sarebbe giunta rapidamente alla perfezione il primo consiglio era che doveva continuare con devozione il rosario che aveva intrapreso il secondo consiglio era che allontanasse da sé per quanto poteva i cattivi pensieri e l'ozio il terzo pensiero era che disegnassi in ogni luogo della propria cella i buoni consigli per allontanarsi dal male e per orientarsi al bene come per esempio quelli sulla passione di cristo sul regno dei cieli sulla morte sull'inferno e così sulle altre cose secondo l'esigenza delle sue tentazioni la ragione di ciò che era che spesso durante le tentazioni non ricordava come resistere alle tentazioni giovanna fece piamente tutte queste cose avvenne in seguito che un santo abbate si dirigesse in quel convento per incontrarle ma venne malamente ingiuriato e malmenato dagli amanti e innamorati delle monache e fu costretto ad andar via non senza grande tormento in seguito non era passato molto tempo ritornò alla medesima comunità non per incontrarla ma per visitarla come avviene secondo la regola esse lo accolsero cortesemente e nella seconda ora della notte mentre effettuava la visita vide in visioni realtà celestiali e cose orribili infatti vide una cella avvolta dalla luce del sole e all'interno vi era una signora una regina bellissima circondata da santi e da sante di meravigliosa bellezza e vi era insieme a loro una giovane in preghiera stavano intorno a questa cella innumerevoli demoni che avevano l'aspetto di animali orrendi e che digrignavano in modi diversi tuttavia le schiere dei demoni non resistendo a quei raggi di luce che li colpivano si allontanarono da lì e vagando ovunque si dispersero sopra le altre celle dove entravano alcuni sotto forma di rospo altri sotto forma di serpente altri sotto forma di un drago ponendo innanzi alle monache realtà carnali e immonde che esse mangiavano e tutte loro assumevano come una bevanda dolcissima quei veleni mortali e attraverso le loro bocche sia attraverso le loro singole membra si introducevano altre realtà immonde egli dunque vedendo tutto ciò e constatando lo stato di miseria in cui versavano tutte in quella notte di veglia urlava e si lamentava fino a svenire per l'angoscia e il terrore e privo di sensi fu portato in una cella dove rimase per qualche tempo ma per volere di dio in seguito si ristabilì egli allora prima di andar via chiamò giovanna e quelle che si trovavano là in quella notte e domandò loro di riferirgli accuratamente ciò che avevano visto in quella notte giovanna allora non essendo capace di negare disse che quella signora era la vergine maria insieme ai santi di cui era devota nel rosario all'udite ciò l'uomo di dio si rallegrò molto e la esortò a perseverare nel rosario e conoscendo la potenza del rosario gli venne in mente una santa astuzia per riformare quella comunità così comprò una corona del rosario bella e pregiata per ciascuna di esse e ne diede una ad ogni monaca con la promessa che ogni giorno ciascuna recitasse il rosario aggiungendo e assicurando che egli non voleva riformare la loro comunità con la forza esse accolsero il rosario con gioia sia perché si allietavano per la bellezza della corona del rosario sia perché non erano costretti a riformarsi avvenne però una cosa meravigliosa ciò che la forza e la potestà di quel devoto padre abbate non erano riusciti a correggere riformò la potenza del rosario di maria infatti era trascorso appena un anno che esse stesse stabilirono di abbandonare ogni vanagloria e scrivendo a quell'abbate gli comunicarono che esse erano pronte a obbedire in ogni cosa alla sua volontà essendo state dunque riformate esse condussero da loro in poi una vita degna di lode perseverando insieme a giovanna nel rosario della vergine maria per mezzo del quale avevano meritato una così immensa grazia esempio 8 elena meretrice dell'anglia si converte grazie al rosario della vergine maria vi era una donna nobile di nascita quanto alle pompe del mondo ma assai deplorevole nei costumi infatti dai dodici anni fine trenta si inabissò continuamente nella libidine ed era la prima fra tutte le meretrici e dal momento che era molto bella attirava tutti a sé non solo mediante l'ordinaria concupiscenza ma anche mediante l'arte magica così ebbe tanta disponibilità di denaro che poter prestare grandi somme di denaro a due conti in massima necessità e ciò è vero anche se sembra incredibile questa assassina delle anime e allo stesso tempo dei corpi andava talvolta le funzioni ecclesiastiche per attirare a sé gli uomini illustri e potenti e fermandosi un po durante la predicazione sentì lodare il rosario della beata maria vergine e scoprì che il rosario della vergine maria era il sommo rimedio per la riconversione morale per la buona morte per ricevere le divine rivelazioni e giustamente dal momento che mediante l'ave maria si sono compiute le rivelazioni di tutti i profeti e il pater noster fu dato agli apostoli per sommo rimedio per domandare a dio tutte le grazie e così ella che era dispiaciuta ma non ancora ravveduta pensò di iniziare a pregare il rosario della vergine maria non per convertirsi ma per prosperare sempre più nelle sue attività questa meretrice di nome elena allora uscendo con le sue compagne dalla chiesa casualmente scorse un uomo che vendeva corone del rosario ne acquistò uno e l'ho appesa alla cintola della tunica inferiore così a poco a poco la signora elena iniziò a pregare il rosario quando trovava il tempo e dopo averle pregato per 15 giorni sentì in sé tanto pentimento e il timore del giudizio e della morte che non era capace di opporvisi né di resistervi né di dimenticarlo e sentir bisogno urgente di confessarsi e si confessò con tale effusione di lacrime e di sospiri che al confessore non si era mai capitata una cosa del genere terminata poi la confessione mentre ella pregava il rosario davanti a una statua della vergine maria da essa udì questa voce o elena elena una dura leonessa fossi per me e per il figlio mio da ora in poi sia a me una pecorella e ti farò essere partecipe di me e delle mie grazie ella infervorata da queste parole subito distribuì ai poveri tutte le sue ricchezze ed entrando in clausura fece una durissima penitenza e non senza divine consolazioni molto spesso infatti vite nell'ossia tra le mani del sacerdote il figlio di dio sapeva anche scrutare i pensieri degli uomini e prevedeva ciò che sarebbe accaduto e dopo la comunione poi fu vista non più sotto forma di donna ma davvero trasformata in cristo secondo quanto disse il cristo a sant'agostino non tu mi trasformerai in te ma tu sarai trasformato in me ella padiva molte tentazioni da parte dei demoni ma la vergine maria le veniva sempre in aiuto e diceva elena che riconosceva realmente che queste due preghiere il pater nostro e l'ave maria erano due anfore divine nelle quali è contenuta ogni meraviglia da guardare ogni fragranza da odorare ogni sapore da gustare due preghiere piacevoli al contatto semplici da comprendere desiderabili e amabili mediante le quali la santissima trinità consola i fedeli e aggiungeva che il pater nostro e l'ave maria erano le due lucerne che danno luce ai fedeli per contemplare le realtà del cielo e ancora affermava che dopo aver ricevuto il corpo del signore mediante questi due epitalami ella comprendeva che il regno di cieli e il mondo erano come due enormi regni che erano paragonabili a due castelli o palazzi uno dei quali apparteneva a maria ed era il regno della benedizione e l'altro apparteneva al diavolo ed era il regno della maledizione così riveriva dio con queste due preghiere perché aveva la convinzione piena che la santissima trinità dimorasse nel regno della benedizione di maria e le fu detto che secondo san tommaso e sant'agostino la santissima trinità si doveva adorare mentre le creature si dovevano venerare dal momento che la santissima trinità è il marchio originale e le creature portano in sé l'impronta divina elena progredì nella santità fino alla perfezione e il suo esempio portò una grande devozione al rosario in tutta l'anglia alla fine della sua lunga vita le apparvero il signore gesù e la vergine maria le preannunciarono la fine al momento della morte maria accolse la sua anima candida come una colomba e la portò in cielo e coloro che erano presenti sentirono un odore suavissimo e un gario spirituale allora dunque sull'esempio di elena prendete tutti insieme il rosario della vergine maria affinché possiate guardarvi dai peccati accumulare meriti ricevere divine visioni e giungere al regno dei cieli amen esempio 9 il memorabile esempio della contessa domenica si racconta l'esempio della nobile contessa domenica alla quale alla morte del marito di prima nozze fu perseguitata dai parenti del marito in modo efferato infatti saccheggiarono le sue città e i suoi castelli e misero tutto a suo quadro ed ella temendo di essere colpita a morte cercò un rifugio era fuggita da sola e nuda e cercava riparo nelle tenebrose caverne dei luoghi deserti per paura dei tiranni infatti nessuno dei suoi sudditi osava ospitare la contessa il nuovo assetto politico aveva portato la contessa a essere considerata una malfattrice e i servi a essere esaltati essi si gloriavano tra grandi banchetti e ella era divorata dalla fame quegli scellerati fautori di iniquità si crogiolavano con le vesti e le ricchezze della signora che avevano espulso mentre la poverina ora stava in una spelonca tremante e impaurita ed era in misera compagnia di rane e di rospi l'infelice stava morendo di fame e di sete e quando pensava a dio irrompeva in feroci impregazioni o quanto è duro dopo le gioie di questo mondo intessere flebili canti o a me quanto è più grave alla fine della vita nel presente secolo sostenere i tormenti delle infinite specie di morte ma non è abbastanza quello che ho detto ogni uomo se avesse visto piangere quella poverina avrebbe pianto anche lui certamente ahimè di ella che cosa si sarebbe potuto dire di più era diventata figlia della morte impia e misera afflitta da ogni male come lo sono i signori e le signore del mondo che vivono nei vizi di ogni genere ella dunque diventata una furia oltraggiando la maesta di dio afferrò un coltello e si trapassò tre volte il petto e a motivo delle ferite cadde a terra moribonda protese le mani distesi i piedi e si vedevano già i segni della morte ahimè la misera vide le legioni dell'inferno il cui numero superava i raggi del sole ahimè quanta angoscia quanti gemiti ella ebbe al vedere le abominevoli e orrende legioni dell'inferno al di sopra di ogni immaginazione o quanti sospiri a me quale sciagura quando la misera vide l'inesprimibile nefandezza della loro dannazione il buio tetro impenetrabile l'estensione incalcolabile delle tenebre e l'infinito orrore del fuoco dell'inferno stiano attenti gli uomini di questo mondo a non finire all'inferno da tale tiranno infine la misera prigioniera della triplice morte naturale spirituale infernale non era capace di pensare altro se non a disperarsi e insultare dio quando lei regnava infatti permetteva ai bestemmiatori di amministrare la sua corte tuttavia dove abbondò l'iniquità sovrabbondò la grazia ella infatti da ragazza dopo aver ascoltato la predicazione di san domenico era solita pregare il rosario della vergine maria ella infatti aveva ricevuto in spagna il rosario della vergine maria proprio dalle mani di san domenico egli era già stato canonizzato ma poi sopraffatta dal potere politico dimenticò la promessa di recitare il rosario sebbene portasse sempre alla cintola e al collo una meravigliosa corona del rosario avvenne una cosa meravigliosa da lodare senza fine alla clemenza di dio e predicare sempre la vergine maria al momento terribile ed estremo della morte le si accostò la beata vergine maria accompagnata da tre bellissime fanciulle e vi era con loro san domenico che col suo bastone con possenti colpi percoteva le regioni infernali ed essi non resistendo alla potenza dei colpi celestiali di domenico fuggirono davanti a loro che avanzavano lasciando la strada libera allora la beata vergine maria rivolta alla figlia di eva disse o figlia o figlia di sei dimenticata di me ma io nella tua miseria e necessità mi sono ricordata misericordiosamente di te un tempo durante la giovinezza tu mi salutavi nel mio rosario seguendo le esortazioni del mio singolare sposo e predicatore domenico poi invece per molto tempo mi hai voltato le spalle tuttavia dal momento che il mio carissimo amico domenico ha pregato per te ascolti ora la mia voce se prometti di offrirmi il mio rosario ricostruirò la tua vita e ti diridarò tutti i beni che hai perduto la moribonda in fin di vita non potendo parlare acconsenticolamente promettendo che avrebbe recitato il rosario maria allora la affidò a san domenico che avvicinandosi alla moribonda ne toccò le ferite e disse dal momento che hai abbandonato le tre cinquantine del rosario sei arrivata fino al punto di infliggerti tre ferite mortali ora dal momento che poco fa hai espresso il proposito di pregare di recitare nuovamente le tre cinquantine che avevi abbandonato ti sono stati concessi da maria tre rimedi per guarire e immediatamente colei che era in fin di vita se non già morta si levò sanissima e dal momento che era senza vestiti san domenico le diede i vestiti della moglie del tiranno che usurpava i possedimenti della signora ed ella con una scorta immaginaria fece ritorno al proprio palazzo e per la potenza di dio san domenico fece sì che il tiranno e la sua donna concubina fossero dati ai carnefici e così la signora riprese per la seconda volta il principato ritornando nuovamente in possesso di tutto ciò che aveva perduto e tutti le resero omaggio allora ella fece prigionieri tutti i suoi nemici e decideva lei ogni cosa a suo piacimento e infine ritornata in possesso di tutti i suoi beni narrò a tutti la grandezza della vergine maria di san domenico e la poi mantenne un così grande fervore verso il rosario della vergine maria che nelle grandi feste nei suoi palazzi e la stessa predicava il rosario ed esortava incitava tutti a recitarlo donando a ciascuno delle belle corone del rosario infine dopo essere vissuta santamente morì di morte gloriosa la gloriosissima vergine maria le apparve insieme a san domenico e portarono la sua anima in cielo tra il giubilo infinito degli angeli e dei santi allora per mantenere la vita i beni e la salute è necessario recitare sempre il rosario della vergine maria che in ogni luogo san domenico predicò recitò portò e distribui agli altri amen esempio 10 è vantaggioso per le donne sposate pregare il rosario della beata vergine maria si racconta che bianca madre di san ludovico re dei francesi chiese a san domenico di pregare per lei affinché il signore la liberasse dalla sterilità e le desse dei figli che fossero al suo servizio ed onore ed egli le consigliò vivamente di pregare devotamente il rosario della gloriosa vergine e di acquistare molte corone del rosario e donarle a tutti coloro che volessero recitarlo dopo aver compiuto piamente queste cose dopo breve tempo per la preghiera del rosario della beata vergine maria e la concepì e partorì il nobilissimo bellissimo e devotissimo figlio ludovico e la restante prore regale che seguì esempio 11 la vergine sbranata da un lupo una vergine originaria della francia viveva in un territorio infestato dalle belve ella era solita recitare il rosario della beata sempre vergine maria ella una volta mentre attraversava il bosco insieme ad una sua amica si imbatterono in due lupi famelici uno dei lupi assalendo all'istante alla gola la sua amica la sgozzò ed ella che pregava il rosario in così grande angoscia invocò maria chiedendole di non lasciarla morire prima che si fosse confessata e comunicata avvenne un fatto incredibile il lupo le sbranò i seni le squarciò il ventre le divorò le viscere subito tuttavia fu liberata da alcuni che sopra giunsero e restò ancora viva per tre giorni nei quali si confessò bene si comunicò devotamente e morì in pace negli ultimi istanti di vita maria santissima la visitò e la condusse ai gaudi celesti allora non avrebbe voluto tutto loro in cambio dalla preghiera del rosario mediante il quale ottenne una così grande misericordia esempio 12 le tre sorelle che morirono santamente tre sorelle abitavano insieme servendo dio in castità e nel disprezzo del mondo e recitavano devotamente il rosario della beata vergine maria e crebbero in santità e fede e per tali preghiere acquistarono grandi meriti di grazia dalla santissima trinità e dalla corte celeste e la vergine maria si degnò molto spesso di trattenersi con esse visitandole amichevolmente infine poi dopo molte apparizioni maria si manifestò nuovamente a esse in grande splendore accompagnata da due vergini e martiri ovvero santa caterina d'alessandria e santa agnese esse avevano tra le mani tre corone che la gloriosa vergine maria offria ciascuno delle tre vergini dicendo vi preannuncio con sicurezza che state per entrare nel regno del figlio mio e vi entrerete domani il giorno seguente dopo compieta apparve loro nuovamente maria santissima insieme alle due sante in un chiarore e profumo ineffabili e vestirono ciascuna di esse con una bianca veste e mentre aspiravano gli angeli cantavano per loro vieni sposa di cristo ricevi la corona che il signore ti ha preparato per l'eternità e così entrarono nei cieli con giubilo dall'ore esempio molti furono sospinti a migliorarsi a gloria della vergine madre di dio del rosario all'ode del rosario e a consolazione dei confratelli esempio tredici l'italica maria che non voleva pregare il rosario e far parte della confraternita a roma viveva l'italica maria matrona di nobile stirpe era una grande signora davanti al mondo ma era ancora più grande più nobile davanti a dio a motivo delle sue virtù quando san domenico nel sacramento della confessione le diede come penitenza di pregare ogni giorno per un anno il rosario di maria tuttavia senza alcuna pena di peccato mortale se lo avesse omesso ma soltanto proponendolo come a crescimento di grazie e di meriti se lo avesse pregato ella tuttavia rifiutò quella penitenza dicendo padre non ho tempo libero ho altre preghiere da recitare e digiuno molte volte per di più porto sempre il cilicio a catenella e vado ogni giorno per le chiese di roma per l'acquisto delle indulgenze e inoltre faccio parte di molte confraternite per questo motivo non riesco ad assumere l'impegno del rosario confido di poter essere salvata dai meriti dei santi e dalle buone opere anche se non recito il rosario e non faccio parte della confraternita egli all'udire ciò fu fortemente ammirato dalla grande devozione e santità della donna e nonostante cercava ancora di persuaderla ad accogliere il rosario non servì a nulla la donna dopo essersi congedata dal santo uomo ripensava ciò che quell'uomo di così grande santità e fama le aveva detto e mossa dallo spirito santo che la ispirava nell'anima visitò tutti i monasteri e i ricoveri della città di roma e facendo loro grandissime lemosine li pregava di intercedere per una sua particolare intenzione ma tuttavia questa santa donna era stata così agitata e tormentata e sognava spesso di vedere aprirsi l'inferno sotto di lei come se volesse ingoiarla ed era così oppressa dal timore di finire all'inferno che aveva perso le forze il colorito dal momento che per circa 12 giorni non aveva trovato aiuto in nessun luogo andò presso la minerva e lì ascoltò una lunga predicazione di san domenico sulle meraviglie del rosario di maria e rimase lì in chiesa per ascoltare la sua celebrazione della messa e avvenne che mentre san domenico celebrava la messa la donna all'improvviso si elevò in spirito alle realtà celesti dove si trovò davanti al terribile giudizio di dio e fu rimproverata fortemente per aver disubbidito a san domenico servo di cristo avendo dito che era stata condannata a sopportare per alcuni mesi i terribili castighi dei demoni e iniziando già a sentire l'indicibile asprezza delle pene tra le sofferenze implorò la vergine maria di aver pietà di lei e la supplicava vivamente di aiutarla la vergine maria le apparve e prendendole la mano destra la liberò dalle sofferenze e le disse o figlia o figlia poiché se è stata disubbidiente per inesperienza ora ottieni la misericordia e la matrona vide subito dopo san domenico che confessava e dava per penitenza di recitare il rosario della vergine maria maria santissima prendendone uno le disse ecco figlia porrò questo mio rosario sul piatto della bilancia e sull'altro piatto vi saranno tutte le tue penitenze corporali appena maria santissima poggiò il rosario sul piatto della bilancia l'altro piatto dove vi erano le penitenze si sollevò in aria e il piatto della bilancia con il rosario scese giù fino in fondo maria disse ecco quanto valore ha il mio rosario e subito dopo maria santissima le rivelò mediante un'altra visione che la sua confraternita del rosario supera infinitamente le confraternita degli altri santi quanto maria è superiore a tutti i santi avendo visto ciò e avendo ascoltato dalla voce della beata vergine molte altre lodi sul rosario e la sua fraternità la donna disse guai a me peccatrice che ho ignorato così a lungo beni tanto grandi allora ritornò in se stessa e vedendo passare accanto a lei san domenico umilmente si accostò a lui e gli raccontò tutto ciò che aveva udito e visto e accolse devotamente la sua penitenza che prima aveva rifiutato insieme alla confraternita e fu seguace sostenitrice del rosario della confraternita per lei e per i suoi familiari finché ella visse e protesse il novello ordine di san domenico come una madre i figli infine la beatissima vergine maria le apparve al momento della morte e condusse gloriosamente la sua anima alla città del cielo il suo corpo poi fu seppellito con onore presso i farati predicatori esempio 14 la monaca devota grazie all'ave maria in un monastero vi era una monaca che condusse una vita degna di lode alla fine dio permise che ella fosse colpita da una grave malattia che si aggravò sempre più e per sette giorni e la resistette e sopportò l'atroce dolore fra lo stupore di tutte le consorelle infine al settimo giorno e la rese felicemente lo spirito beato a dio dopo pochi giorni la defunta parve a una suora che lei era amica e le disse che si era salvata e dopo un breve colloquio la defunta soggiunse ah se potessi ritornare nel corpo per pregare al momento della morte solamente un'ave maria anche senza grande devozione io per acquistare il merito di quell'unica ave maria vorrei perfino affrontare nuovamente per altri sette giorni quell'atroce dolore che sostenni prima della mia morte allora lo date tutti continuamente la vergine gloriosa nel suo rosario dicendo sempre con serenità di cuore ave maria piena di grazia fine degli esempi e di tutta l'opera del beato alano conclusione nota del curatore delle opere del beato alano a conclusione di questo studio si può certamente rispondere che il rosario si è diffuso nel mondo grazie alle opere del più eccelso cantore della madonna del rosario il beato alano della rupe il santissimo rosario rivelato dalla madonna san domenico nel 1212 e caduto in oblio nel quindicesimo secolo è rifiorito meravigliosamente grazie allo slancio alla passione e all'ardore del beato alano della rupe che nel 1464 ebbe le grandi divisioni della madonna del rosario e nel 1470 riede vita a due alle antiche confraternite del rosario il beato alano della rupe fu fatto subito beato a livello diocesano come confermano i tanti quadri del xvi secolo dove ha laureola ma va elevato ancora beato della chiesa universale e fatto santo ci auguriamo di vederlo presto tra i santi più importanti del mondo cristiano o regina del santissimo rosario o beato alano della rupe che mi avete guardato con occhi di predilezione fin dalla vocazione sacerdotale in tenera età e mi avete affidato questo compito così eccelso che supera ogni confine della mia limitata persona vi offro oggi questo lavoro che ho cercato di svolgere con amore e dedizione e spero su di me e sui membri della confraternia del rosario di san luca le benedizioni promesse ai vostri rosarianti don roberto le 15 promesse della madonna del rosario a san domenico di guzman dell'ordine dei predicatori della rupe dell'ordine dei predicatori io maria prometto la mia speciale protezione e grandissime grazie a chi reciterà devotamente il mio rosario io maria prometto grazie speciali a chi persevererà nel mio rosario il rosario sarà un'arma potentissima contro l'inferno distruggerà i vizi libererà dai peccati dissiperà le eresie il rosario farà fiorire le virtù e le opere buone e otterrà alle anime le più abbondanti misericordie divine il rosario sostituirà nei cuori l'amore di dio all'amore del mondo il rosario eleverà al desiderio dei beni celesti ed eterni o quante anime si santificheranno con questo mezzo chi si affida a me maria con il rosario non andrà in perdizione chi recita devotamente il mio rosario meditando nei misteri non cadrà in disgrazia se pecatore si convertirà se giusto crescerà in grazia e diverrà degno della vita eterna i veri devoti del mio rosario non morranno senza prima ricevere i sacramenti della chiesa chi reciterà il mio rosario in vita e all'ora della morte sarà illuminato da dio e riceverà grazie senza numero e in cielo parteciperà dei meriti dei santi io maria libererò all'istante dal purgatorio le anime devote del mio rosario i figli del mio rosario godranno di una grande gloria in cielo quello che tu chiederai con il mio rosario otterrai chi diffonde il mio rosario sarà soccorso da me in ogni sua necessità io ho ottenuto da mio figlio che tutti i membri della confraternia del rosario abbiano per fratelli i santi del cielo sia in vita che all'ora della morte chi reciterà fedelmente il mio rosario è figlio mio amatissimo fratello e sorella di gesù cristo la devozione al mio rosario è un grande segno di predestinazione per la salvezza grazie a tutti